Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video Sì, sto provando un po' tutti gli angoli della nuova camera per girare video Forse questo mi convince, forse no Ditemi come al solito la vostra Ma non siamo qui per parlare di questo Siamo qui per parlare di prodotti finiti Ebbene sì, questa scatola gigante perché forse avevo, non lo so, buone intenzioni In realtà sono stata molto brava Vi mostro tutti i prodotti che ho finito in questo mese Questa è una delle tipologie di video che mi piace più in assoluto Che era un bel po' che non realizzavo qui sul canale Ma mi piace tanto vederle e mi piace tanto realizzarle Forse soprattutto realizzarle per una soddisfazione personale Perché finire un prodotto di beauty quando ne hai tanti, ne provi tanti È sempre una soddisfazione personale Primo prodotto che vi mostro sono delle salviette struccanti Tranquille, non sono solita usare le salviette struccanti Sennò in occasioni estreme Quindi ad esempio quando vado fuori due giorni non ho voglia di portarmi struccante e tutto quanto Di solito io utilizzo anche il panno e il microfibro per struccarmi Solo che poi quello in viaggio non è comodo perché rimane umido Insomma, le utilizzo proprio in Estremis Ho utilizzato queste qui della Fria Che sono salviette struccanti con latte detergente in salvietta No, raga, è un grande no Perché io ho gli occhi particolarmente sensibili, va detto E mi bruciano molto sugli occhi Ma anche sulla pelle andate ad applicare Lasciano proprio la pelle pesante Avete comunque bisogno di sciacquarla Ma non solo con l'acqua, ma proprio lavare la pelle con il sapone, con un detergente Quindi dov'è poi la comodità delle salviette se devo comunque darmi a lavare il viso Altro prodotto che ho finito sono questi qui Sono dei patch per contornocchi che ho acquistato su Amazon Se non si ritrovi il link vi lascio anche il link giù nell'info box Nel caso in cui foste interessate Vi faccio vedere anche la confezione perché ne ho ottenuta una Erano sigillati in questa confezione di plastica e carta argentata Difficilissimo ad aprire nel senso che era super sigillata Bene per non far seccare il prodotto all'interno Infatti qui l'ho tipo distrutta Sono patch indicati per le occhiaie Sono patch quelli in gelatina Quella a consistenza molle Comunque abbastanza dura, non si andavano a distruggere una volta applicati sul contorno occhi E lì mi sono piaciuti Gli ho pagati relativamente poco perché comunque era un prodotto low cost E mi sono piaciuti Avevano proprio una bella azione decongestionante Li tenevo su anche oltre mezz'ora E sentivo proprio la zona fredda, bella decongestionata Quindi andavo anche a effettuare un'azione di sgonfiaggio delle borse Oltre che di riduzione delle occhiaie Anche dopo aver ridotti dopo mezz'ora la zona era proprio più compatta e decongestionata Quindi mi sono piaciuti E per questo vi lascio il link giù nell'info box se lo ritrovo Perché sono stra consigliati per me Altro prodotto che ho finito Sto spaziando un po' nelle categorie per intrattenervi È questo balsamo qui di Euphidra Mi era stato mandato, credo a fronte di un'artine che avevo fatto online Ed è un balsamo con acido ioduronico e proteine della seta Che andava a idratare, ristrutturare e dare morbidezza ai capelli Ma la cosa più importante è che fissava il colore Quindi tendeva a non far svanire il colore della tinta Devo dire che mi è piaciuto Un balsamo come un altro abbastanza nutriente Però non ho notato questa cosa che mi faceva adorare il colore più del solito Io ora che sto facendo questo nero Ho le punte sotto decolorate E mi riesce il castano biondiccio sempre sulle punte Diciamo che con questo balsamo non ho notato nessuna azione in questo senso Ho finito l'ennesima, ennesima confezione di lui È il mio doodorante della vita Se vi piacciono le profumazioni però un pochino dolci Un pochino tanto dolci Questo qui è il Notre Roberts fresco Zero sali di alluminio e la profumazione è Monoi e Fresia Lo riconoscete perché è il tappo rosa Esiste anche in altri formati Credo in Stick e in Roll On Comunque anche in altri formati Questo è il classico spray, quello senza alcol Che è il formato che mi piace di più nei doodoranti Oh mio dio Cioè se facessero un profumo di questa profumazione Io me lo comprerei, lo giuro Mi piace tantissimo la profumazione E cosa importante per un deodorante Mi teneva profumata e pulita più a lungo E vi giuro che ho deciso di cambiare deodorante E per provare profumazioni nuove Profumazioni nuove Ne ho comprati tre diversi Di tre marche diverse Con tre profumazioni diverse Io non riesco ad abituarmi Non solo per abitudine alla profumazione Ma non hanno questa azione di doodorante su di me Gli altri doodoranti Solo ed esclusivamente lui Questo sembra uno sponsor Ma vi giuro che no Quindi sono alla caccia Va a ruba poi Non lo trovo mai in questo formato Quindi lo sto cercando ardentemente Perché devo tornare a lui Ho fatto una cavolata a cambiare deodorante Devo tornare a lui Ho finito due mascara Questo qui era bello vecchio Però vabbè Gli ho dato le ultime due chance E poi l'ho terminato Ed è un mascara di Gilles Cagni Era una collaborazione che avevo fatto tanto tempo fa E questo qui era il Lash Up Incurbante Mi ero trovata molto bene Con l'altro mascara di questa linea Che era quello volumizzante Questo qui incurvante Diciamo che io non vedo Molti effetti incurvanti Sulle mie ciglia Perché le ho molto molto curve di loro Per fortuna Ringraziamo la natura E le ho molto curve Tanto che quando mi metto il mascara Mi macchio la palpebra superiore Quindi diciamo che l'azione incurvante Non è un'azione che notano un mascara Però comunque è un bello scovolino L'altro mascara che ho finito È questo qui Super super chiacchieratissimo Nell'ultimo periodo Forse più un mese o due mesi fa È il Total Temptation di Maybelline Credetevi sulla fiducia Perché la confezione l'ho praticamente distrutta Ma diciamo che è abbastanza fragilina Perché la scritta è sull'ucido E si è completamente tolta Total Temptation Lo compro o non lo compro? Me l'avete chiesto tante tante volte Anche su Instagram E... No Per me o no Allora è un buon mascara Ha un bello scovolino Vediamo se si apre Si si apre Con le setole Bello cicciotto È un bel mascara Perché fa un bel effetto Per me l'effetto è paragonabile A un effetto ciglia finte Bello volumizzante Bello nero Ha una bella durata Durante la giornata Nel senso che non va a sgretolarsi Perché non lo ricomprerei Allora Perché non lo comprerei Questo me l'avevano mandato Si è seccato in pochissimo tempo Tempo un mese Di utilizzo quasi quotidiano Ma comunque solo un mese E l'ho dovuto smettere di usare Perché si era completamente seccato Nella confezione Nonostante io lo utilizzassi Come utilizzo tutti i mascara Quindi con accortezza Non vado a fare il movimento classico Così per non far prendere aria al prodotto Insomma con tutte le accortezze del caso Altri mascara mi durano anche 3-4 mesi Questo qui dopo un mese Era inutilizzabile Perché la formulazione era proprio diventata secca Forse perché già era bella densa all'inizio Per fare quell'effetto super volume Ma non lo comprerei solo per questo Perché comunque 12 euro circa di mascara Per solo un mese di utilizzo Se rivedessero la formulazione Rivedessero solo questa cosa della formulazione Secondo me sarebbe top Altro prodotto finito per capelli È questo qui Ed è Olaplex Anche di questo vi ho parlato in un video dedicato Che vi lascio qui su lei se ve lo siete perso Questo prodotto mi ha veramente rinnovato i capelli Non mi di lungo sul spiegarvi l'utilizzo Come funziona Cos'è Perché appunto nel video dedicato ve l'ho spiegato benissimo Questa qui è comunque la seconda confezione Che compro di questo trattamento Olaplex Che è la terza fase E mi ha veramente rivoluzionato i capelli Lo ricomprerò assolutamente sì Nonostante il costo sia un pochino elevato Perché per 100 ml costa circa 30 euro Se lo trovate scontato Ma veramente i miei capelli che sono super provati Perché ci faccio il brushing ogni volta che li lavo Li lavo spesso Sono decolorati e poi tinti sopra ogni mese Quindi sono un po' stressati Se li vedete lucidi e sembrano sani È anche e soprattutto marito di questo Ho finito questa qui Ce l'avevo da un bel po' di tempo Ed è la Gliss Hair Repair Sono quelle maschere SOS in pillole Diciamo che dovrebbero essere utilizzate solo per un utilizzo Utilizzate per un utilizzo Ma io ci avevo fatto un bel po' di applicazioni Almeno 4 All'interno ci sono 20 ml di prodotto E fanno questo tipo di maschere in pillole I miei amole così In tubetto monodose Anche la Garnier se non mi pare Se non mi sbaglio Questo qui è di testa nera E bah Una maschera Una maschera qualsiasi La cosa comoda di queste maschere A parte gli scherzi E che si può portare ovunque Perché è comoda Cioè È piccolo il formato E non si devono lasciare in posa le ore Ma basta un minuto La tenete in posa un minuto Mentre siete sotto la doccia Magari nel frattempo vi insaffonate altre parti del corpo E fanno il loro effetto Fanno assolutamente il loro effetto Ultimo prodotto Lo lasciate per ultimo Perché ormai secondo me Non ne potrete più Di sentirmi parlare di questo prodotto Non vi lascio neanche il link del video qui In cui vi parlo di queste Le prove Le proviamo insieme Perché non ha senso Ve ne ho parlato 1800 volte Sono i serotini per punti neri Migliori in assoluto per me E sono questi di Tony Moli Alla fragola Anche questi presi su Amazon E qualcuno di voi mi ha detto Che forse non li aveva più trovati Spero li abbiano rimessi E niente Che devo di? Alla prossima